Abbiamo coinvolto 2.500 tra ragazzi e ragazze, in realtà erano almeno 2.200 ragazze però c'era anche comunque una percentuale di ragazzi per riflettere su un argomento che loro purtroppo conoscono, nel senso che a quell'età spesso ci sono episodi di violenza che vengono sottovalutati ed è stato un modo diverso di coinvolgerli. Hanno provato per settimane una coreografia e devo dire che vedere il flash mob oggi è stata un'emozione fortissima.